Prima ha tentato di uccidere la moglie con un fendente alla gola e poi si è tolto la vita impiccandosi. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Un uomo di 38 anni, al termine di una lite, ha colpito con una coltellata la compagna, una 34enne del posto, lasciandola in una pozza di sangue. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è ricoverata in gravissime condizioni. L'uomo si è dileguato tra le campagne di Olevano sul Tusciano, dove un'ora e mezza dopo è stato ritrovato senza vita. I due coniugi, Massimo Salvatore e Sonia Bianchi, erano sposati da 10 anni e avevano due figli di 9 e 4 anni. Al momento dell'aggressione i bambini non erano in casa. Secondo i primi accertamenti sarebbe la gelosia, il movente che avrebbe spinto l'uomo a tentare di uccidere la 34enne.